L'alimentazione è uno dei maggiori problemi che gli italiani devono risolvere, un problema che li impegna ogni giorno e per 365 giorni l'anno. A Novara, nel corso di un convegno nazionale sui problemi dell'alimentazione, il Cavaliere del Lavoro, Mario Pavesi, ci ha detto. Ho accolto con molta soddisfazione l'iniziativa volta ad un'educazione alimentare dei consumatori. Spero che, gradatamente, anche in Italia ci si renda conto che il prodotto dolciario ed il biscotto in particolare possono entrare a far parte integrante della dieta giornaliera e non essere considerati come un genere volutuario. Lo scopo del convegno al quale partecipano illustre personalità del mondo scientifico italiano è quanto mai impegnativo. Chiarire prima ai consumatori quale deve essere l'alimentazione da seguire, educare poi gli stessi consumatori a seguire questa alimentazione. Qualcuno però afferma che gli italiani non hanno bisogno di essere educati. Sanno mangiare e come!